Anticipazioni Il Segreto. Puntate spagnole. Un altro incendio a Puentevieco fa tremare tutti i cittadini. Panico a Puentevieco. Un altro incendio rischierà di radere al suolo la cittadina e questa volta pare essere molto più pericoloso rispetto a quello applicato da Fernando Messia in passato. Il capitano Huerta saletterà tutti i cittadini, molti dei quali si troveranno imprigionati dalle fiamme. La situazione sarà critica, ma comunque si mobiliteranno per spegnere le fiamme. Tutti rischieranno di perdere la vita perché questa volta il fuoco sembrerà indomabile. Le anticipazioni spagnole del Segreto ci rivelano che Marcella e Mattias collaboreranno per aiutare quante più persone possibili, anche se Il Segreto, Tramma nuova stagione, prima vittima dell'incendio, Mattias e Marcella lavorano insieme nonostante tutto. Ci sarà una prima vittima causata dell'incendio, una giovanissima ragazza che verrà soffocata dal fumo. Morirà tra le braccia di una disperata Marcella, la quale si convincerà che, dietro a tutto, ci sia nuovamente lo zampino di Fernando Messia. Il cattivissimo personaggio aveva appiccato un incendio poco prima di essere ucciso da Maria. Nonostante il loro rapporto inevitabilmente compromesso, Marcella e Mattias decideranno di salvare insieme i loro concittadini. Per Mattias non sarà facile stare al fianco della moglie, dopo la terribile confessione che gli ha fatto. Chi è stato il colpevole dell'incendio di Puentevieco? Cos'altro sappiamo dalle anticipazioni future del Segreto? Anche Francisca Montenegro potrebbe rischiare di morire, proprio ora che ha riottenuto la libertà. Intanto si comincerà a indagare sul colpevole, Marcella è convinta che sia Fernando, ma la verità potrebbe essere un'altra. Eulalia potrebbe aver dato fuoco a Puentevieco per abbattere la sua ira sulla Montenegro. Lei è stata ad aver raso al suolo tutte le proprietà della nobile donna. Non dimentichiamo che Eulalia si è spinta anche a rapire Raimundo Alona.